Cambiamo argomento, parliamo di politica. È stata presentata questa mattina la squadra che sosterrà Alessandra Zedda alla guida del capoluogo Sardo, il servizio di Bebo Madeddu. Presentata la squadra che sosterrà Alessandra Zedda per la guida del capoluogo Sardo, l'amore per Cagliari e l'obiettivo di reprire la città sono le prerogative principali della coalizione di centrodestra che si presenta unita e compatta all'elettorato. Alessandra Zedda, dirigente di ruolo della pubblica amministrazione, già vicepresidente della regione ed ex consigliere regionale, si presenta così. Ora dunque è giunto il momento di mettermi a completa disposizione della città che amo. Per farlo ho scelto un messaggio, io guardo avanti e guardo avanti sentendo a fianco ognuno di voi con la consapevolezza che si può e si deve cambiare. Lo devo alla nostra comunità che chiede una città sicura e vivibile. Lo devo ai nostri giovani che chiedono opportunità, lavoro e istruzione. Lo devo al nostro territorio e alle sue aziende. Oggi la città sta attraversando un difficile percorso di trasformazione e riqualificazione urbana. Un percorso sul quale va messo un punto, riaprendo il dialogo con i cittadini, con i quartieri e con tutte le categorie produttive. Il nostro primo obiettivo è un sentimento diffuso in tutta Cagliari, riaprire la città, liberarla dal traffico, dalle chiusure, dalle divisioni di chi vuole lasciare tutto fermo. Per questo mi candido, per amore della mia città, per guardare avanti e per riaprire tutto ciò che oggi è chiuso e al buio. Lo faccio con il vostro sostegno e con il vostro entusiasmo, come donna, come cittadina e se Cagliari lo vorrà come prima donna sindaco.